Città della Speranza raccoglie fondi, vende queste colombe per la beneficenza, cosa ci puoi raccontare? Sì, allora noi offriamo, non vendiamo, offriamo a fronte di un'offerta la colomba di Città della Speranza perché in questo modo sosteniamo la ricerca, sosteniamo la fondazione che ormai da 27 anni è impegnata per combattere le malattie oncomatologiche e pediatriche. È un centro all'avanguardia, uno dei primi a livello europeo e quindi c'è una rete di volontari che sostiene la ricerca offrendo, in questo caso le colombe, uova, fortunatamente l'abbiamo esaurita e poi sperando che il Covid ci permetta torneremo a fare i banchetti e organizzare qualche attività sempre per accogliere fondi da destinare alla ricerca. Grazie per sostenere la fondazione. Grazie. Prego.